Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa centottesima puntata del podcast di Marcosbox. SIGLA! Rieccoci qui con una nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare le principali notizie dal mondo del software libero open source dell'ultima settimana appena trascorsa. Iniziamo questa puntata parlando di Linux Mint. Clement Lefebvre ha fatto un nuovo post, come da tradizione, ogni fine mese Clement Lefebvre pubblica un post sul ragionamento sulle principali novità che ci aspettano su Linux Mint e su Cinnamon e ha pubblicato adesso il nome e il codice della prossima release semestrale di Linux Mint. Linux Mint 20.03 si chiamerà una. e il nome non lo ha specificato. Sapete bene, in passato utilizzava specificare, nominare varie versioni di Linux Mint con un nome femminile e dava anche una spiegazione dell'origine del nome. Ultimamente ha perso questa tradizione. Sembra che i programmatori, quelli di vecchio stampo, abbiano deciso di abbandonare le vecchie tradizioni. La stessa cosa era, usava fare Mark, il patrò di Canonica, Mark Shutterworth, che ad ogni rilascio, ad ogni annuncio di nuova versione di Ubuntu annunciava il nome in codice, spiegava, bla bla bla, adesso non se ne frega più niente manco lui e a quanto pare nemmeno Clement Lefebvre. Vabbè, comunque, poco importa. L'importante è che la prossima versione semestrale di Linux Mint vedrà la luce fra qualche mese e dovrebbe arrivare per Natale 2021. Ovviamente nelle serie, nelle sole, nelle consuete, anzi, tre edizioni, Cinema Animate e XFCE. C'è stato fatto anche l'annuncio del nome in codice della prossima versione di Linux Mint Debian Edition, precisamente la versione 5. Siamo aggiunti quindi alla quinta incarnazione di questa distribuzione. Per chi non lo sapesse, il team di Linux Mint sviluppa, oltre alla distro principale basata su Ubuntu, che, da qualche anno in questa parte, segue i rilasci LTS di Canonica, quindi offre per il suo ciclo di vita minorilese, sempre basati su LTS, quindi si muove di LTS in LTS, per consentire il massimo della stabilità, secondo i piani dei creatori di Linux Mint. Ma in realtà lo fanno semplicemente per avere meno rogne con gli aggiornamenti semestrali. Comunque, oltre all'edizione principale di Linux Mint, abbiamo anche una versione di Linux Mint basata su Debian. Linux Mint Debian Edition 5, il nome in codice Elsie, sarà basata su Debian 11, che è stata rilasciata da qualche settimana, qualche mese, anzi, è stata rilasciata ad agosto. Siamo già a ottobre, quindi qualche mese fa. E questa nuova versione, dicevo, sarà basata su Debian 11, utilizzerà Cinnamon, e sarà disponibile per l'architettura AMD64 e i3-8C. Quindi, soltanto Cinnamon, scordatevi gli altri desktop environment, quelli che fanno parte del trittico di Linux Mint. Le novità che sono state pubblicate sul blog di Linux Mint riguardano anche una gradita novità che sta per atterrare su Linux Mint e che atterrerà sulla prossima estera di Linux Mint, ovvero un redesign soft, perché in realtà non è che stanno facendo grossi lavori, del tema GTK Mint Y, che è il tema che ci accompagna da qualche versione a questa parte di Linux Mint. Sono stati fatti alcuni ritocchi estetici volti a migliorare anche l'integrazione con le applicazioni di terze parti. Una su tutte troviamo una barra del titolo con pulsanti che sono adesso più piccoli, arrotondati, che meglio si incastrano, quindi sono più facilmente raggiungibili e sono anche graficamente più carini. Andatevi a vedere gli screenshot che trovate su Marcosbox. Poi ci sarà comunque un lavoro per quanto riguarda gli accenti, quindi i vari colori, i colori che verranno utilizzati per rendere il tema più vibrante, più accattivante, più piacevole, che sono stati modificati. Adesso abbiamo una palette colori sul grigio con soltanto alcuni accenni che seguono il tema di Mint Y che andremo a scegliere. Mint Y, lo sapete, viene rilasciata in verde, blu e tantissime altre sfumature di colore. Quindi ci sarà anche un restyling sotto questo punto di vista per gli accenti, per le sfumature di grigio che vengono adoperate per quanto riguarda la selezione, le finestre scomparsa, i pulsanti e quant'altro. detta voce sembra una cosa complicata da spiegare, andate a vedere su Marcosbox gli screenshot e capirete al volo di che cosa sto parlando. Ovviamente, oltre agli accenti, si lavorerà anche sulla palette colori delle varie edizioni, dei vari colori del tema Mint Y. E' stata poi aggiunto il supporto per la modalità Dark di Mint Y per alcune applicazioni. Alcune applicazioni come Hypnotics, Celluloid, Gnome Terminal, Pix e Xviewer avranno un tema scuro di default. Quindi queste applicazioni, se lanciate, saranno in modalità Dark. Queste modifiche sono state applicate soltanto nell'edizione Cinnamon, nell'edizione quella per XFCE non è possibile aggiungere la modalità scura e quindi Pix e Xviewer rimarranno chiari sull'edizione XFCE. E per tutti quelli che di sicuro si lamenteranno di questa scelta, perché, come al solito, ogni qualvolta viene introdotta una novità all'interno del Microsoft Libre, o penso all'interno delle distribuzioni e quant'altro, se è sempre qualcuno dice, io voglio quella vecchia! E siccome il team di Linux Mint è molto bravo a accontentare gli utenti, ha deciso che i vecchi temi, la vecchia versione del tema Mint Y, rimarrà all'interno dei repository con una versione Legacy e sarà possibile installare di fianco a un nuovo team. Speriamo che facciano anche un ritocco del tema di icone predefinito. Sapete bene che io odio tutte quante le distribuzioni che utilizzano dei temi di icone che vanno a modificare le icone delle applicazioni in terza parte, perché è anche una mancanza di rispetto nei confronti dei creatori di quell'applicazione perché non so, dietro l'icona di Firefox c'è uno studio che è stato fatto, c'è il brand Firefox, c'è l'identità del prodotto, se ce lo vai a cambiare l'icona mettendoci un... soprattutto poi come fa l'inux Mint, come fa l'inux Mint, che ci va a mettere le icone per le applicazioni di terza parte che sono a dir poco oriente ed esulite. Capite bene che è un pugno nell'occhio vedere queste cose, è anche un dispiacere per appunto i grafici che hanno lavorato duro per rendere le applicazioni di questi programmi che si vedono gettate all'ortica il proprio lavoro. Comunque, sono finissime soltanto mie, sono sicuro che molti di voi non se ne fregano a niente, come ho visto, svariati in screenshot di moltissimi utenti che vanno a personalizzare le icone di terza parte dell'applicazione e ci sguazzano con le icone improbabili. Vabbè, solo io che sono vecchio, non lo so, bu. Cambiamo subito l'argomento e passiamo al rilascio di OnlyOffice Desktop Editor 6.4. Conoscete questa sita d'ufficio, è un sito d'ufficio disponibile per diverse piattaforme, quindi Windows, MacOS, Linux, ma è anche la suite d'ufficio dell'edizione online, ovviamente, che troviamo su Nextcloud, Oncloud e quant'altro. È una suite d'ufficio rilasciata e sviluppata da Ascensio Systemsia che, devo dire, offre anche una migliore compatibilità con i file generati, i file proprietari di Microsoft Office. Mi è capitato in passato, diverse volte, di aprire, soprattutto file di testo, file docx, che aperti i LibreOffice avevano una formattazione che lasciava molto a desiderare, quindi andava molto a sentimento e interpretazione, mentre con OnlyOffice la formattazione veniva mantenuta coerente con quella visualizzata su Microsoft Office. E se siete alla ricerca di un'alternativa a LibreOffice, fateci un pensierino. La novità principale di questa versione, comunque, è l'arrivo della versione nativa per i dispositivi MacOS basati sui processori Apple Silicon M1. Quindi adesso gli utenti che hanno un computer equipaggiato con un processore Apple Silicon M1 avranno adesso una versione nativa che gli consiglierà di avere maggiore velocità di lavoro negli editor e anche un minor consumo di risorse, perché non verrà più emulato mediante Rosetta 2. Per quanto riguarda le altre novità, troviamo la formattazione condizionale nei fogli di calcolo, il lavoro in blocco con i commenti nei documenti, quindi la possibilità di eliminarlo e risolvere i commenti che abbiamo già rivisto tutti in una volta sola e la cronologia delle versioni nelle presentazioni. Troviamo poi altre piccole novità, quelle che potete leggere nel Change Log che ho pubblicato su Marcos Box. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo aspetto d'ufficio. Io la sto seguendo perché ha un'interfaccia carina, onesto granché, non è quella interfaccia che dico ma no è bellissimo e moderna, però è carina. Più carina di quella di LibreOffice, secondo alcuni. E come vi dicevo, almeno per quanto riguarda l'editor di testo, ho notato una migliore compatibilità con i file DOCX, quindi i file proprietari della suite Microsoft Office. Restando sempre a parlare di suite d'ufficio, c'è stato il rilascio della versione 4.1.11 di Apache OpenOffice. Se avete capito bene, OpenOffice che è passato sotto l'ara dell'Apache Software Foundation continua ad essere sviluppato nonostante tutto. Il motivo per cui continua ad essere sviluppato ancora non lo sappiamo, probabilmente soltanto per, diciamo così, rompere le scatole virtuali al team di LibreOffice, ma l'Apache Software Foundation continua a portare avanti questo progetto. Quali sono le novità di Apache OpenOffice 4.1.11? Poche correzioni di bug. Una nuova galleria di Writer Fontworks. Sono stati aggiornati i tipi di documenti in cui è consentito il collegamento ipertestuale. È stato aggiornato l'installer per la versione per Windows e grandissimo cambiamento di cui beneficeranno grandi e piccini e l'augmento delle dimensioni dei caratteri nella guida. Oltre a questo, il team di Apache OpenOffice sta mitigando 5 rapporti CVE Common Vulnerability and Exposure l'ho detto con il mio solito inglese maccheronico tre dei quali saranno resi noti l'undici ottobre in coordinamento con The Document Foundation. Quindi si lascia presagire che siano delle vulnerabilità che affliggono il codice comune che troviamo anche su LibreOffice perché sapete bene che LibreOffice è stato forcato da Apache OpenOffice o meglio da OpenOffice vabbè, chiamatelo come lo volete. Non so voi, però io ad ogni minor release di Apache OpenOffice mi domando sempre la stessa cosa ma perché la suite è ancora in sviluppo? Perché? Per quale motivo continuano a portare avanti? Non vengono introdotte nuove funzionalità degne di nota, non ci sono stravolgimenti o miglioramenti nel codice, ci sono solo piccole correzioni di tanto in tanto per dimostrare al mondo di essere ancora vivi. L'appello che penso sia condiviso da parte di tutti quanti e alla Apache Software Fundice è quello di volate questo progetto iniziare a contribuire allo sviluppo di LibreOffice sia in termini di sostegno economico che di forza lavoro che di infrastrutture che magari potete ospitare sui vostri server gli applicativi e quant'altro cioè insomma datevi da fare per trovare un punto di incontro con LibreOffice e viceversa dico anche LibreOffice cercare di trovare un punto di incontro con Apache OpenOffice perché secondo me la verità come in tutti questi casi sta sempre là in mezzo quindi è un po' coppa da tutte e due perché non si riesce a trovare un punto di incontro un punto di convergenza anche se secondo me la coppa è più di Apache OpenOffice voi che cosa ne pensate? continuate ad utilizzare OpenOffice fra l'altro io poi c'è anche da dire quest'altra piccola cosa nel mio piccolo mondo nel mio piccolo mondo di utente di utente Linux di utente Windows che ogni tanto sbircia computer sbircia quant'altro ho notato anche in alcuni studi professionali che c'è gente che continua ad andare avanti con Apache OpenOffice Apache OpenOffice installato sul proprio computer non so quale versione magari versione obsolete perché sapete bene che difficilmente dove non c'è cultura informatica difficilmente si seguono i rilasci minori quindi si si aggiorna il software però l'ho visto utilizzato in diversi ambiti e ho visto anche parecchie persone che conoscono ancora di nome OpenOffice specie quelle un po' più con con barba e capelli sul grigio e bianco come me che continuano ancora ad utilizzare Apache OpenOffice conoscono la parola OpenOffice e associano l'OpenOffice a suite gratuita quando gli nomi di ma vedi che esiste LibreOffice che è così così gli spieghi tutta la faccenda e voi ti guardano stranitiche vi capita anche a voi avete avuto modo anche voi di incontrare gente di questo tipo studi professionali e quant'altro fatemelo sapere cambiamo nuovamente argomento e passiamo a parlare di browser internet con due notizie che riguardano due rilasci di due browser web la prima notizia riguarda il rilascio di Firefox 93 questa nuova versione dell'unica vera alternativa allo strapotere dei browser basati su Chromium vede l'arrivo di interessanti novità che vanno a migliorare anche la privacy degli utenti la prima novità riguarda il supporto Avif Firefox adesso supporta il nuovo formato di immagine Avif basato sul codice video AV1 che è moderno e privo di royalty quindi il che fa sempre bene offre anche un notevole risparmio di larghezza di banda per i siti rispetto ai formati di immagini esistenti e supporta anche la trasparenza e altre funzionalità avanzate ci sono poi dei miglioramenti nel visualizzatore pdf il visualizzatore pdf di firefox adesso supporta la complicazione di più moduli basati sui moduli XFA utilizzati da più governi e banche maggiore informazioni le trovate sul blog per quanto riguarda gli amici che utilizzano firefox su windows ci sono anche buone novità con correzioni che hanno consentito di avere meno pressi anomali firefox 93 adesso si bloccherà di meno sulle versioni per windows perché quando la memoria di sistema disponibile è estremamente bassa firefox su windows scaricherà automaticamente delle schede in base all'ora dell'ultimo accesso all'utilizzo di memoria ed altri attributi e questo dovrebbe aiutare a ridurre tutti quanti quegli arresti anomali dovuti alla memoria esaguita di firefox il passaggio a una scheda data poi scaricata la ricaricherà automaticamente quindi non avremo nemmeno problemi di 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 impatto visivo di lentezza visiva quando andremo a ricaricare queste schede per quanto riguarda gli utenti macOS adesso è stata aggiunta una funzionalità che cosa fa quando su macOS eseguiamo firefox da un file dmg montato adesso alla chiusura di firefox verrà ricordato che verrà chiesto loro di completare l'installazione quindi ti ricorderà firefox di installarlo su macOS quindi ricordati che devi installarlo anche su macOS la protezione da dogod su connessioni non sicure questa è un'altra grande novità di questa nuova versione di firefox perché firefox adesso è in grado di bloccare i dogod che si basano su connessioni non sicure proteggendo quindi da dogod potenzialmente dannosi non sicuri ed è una funzionalità davvero interessante che impatterà principalmente su quegli utenti poco attenti alla sicurezza che scaricano roba da qualunque da qualsiasi sito ci sono poi miglioramenti in smart block 3.0 quindi compatibilità web migliorata per la protezione della privacy con smart block 3.0 e maggiore protezione da tracciamento perché è stata introdotta una nuova protezione da tracciamento dei refereri nella modalità strict tracking protection e nella modalità di browser privato troviamo poi ovviamente correzioni di problemi ad esempio ci sono state fatte delle correzioni per quanto riguarda lo screen reader orca che adesso funziona correttamente con firefox non richiedendo più agli utenti di passare ad un'altra applicazione dopo aver avviato firefox fatemi sapere se voi continuate ad utilizzare firefox se rimanete duri e puri con questo browser che purtroppo sta subendo un declino sempre più evidente dovuto all'ascesa dei browser basati su chromium speriamo per firefox che ci siano tempi migliori l'altro browser che torna ad aggiornarsi è vivaldi che è uno dei più interessanti innovativi browser basati su chromium torna ad aggiornarsi con la versione 4.3 che va a migliorare sia per quanto riguarda la gestione della privacy degli utenti che anche l'usabilità è stata aggiunta una nuova funzionalità di acquisizione che ci consente di ridimensionare le immagini degli screenshot è stato modificato il pannello dei download quindi che ci dà maggiori informazioni sulla velocità dei nostri download in corso è stata migliorata la funzionalità di sincronizzazione con anche una nuova grafica che è più facile da gestire e da da capire diciamo così la domenità principale comunque riguarda il miglioramento della privacy degli utenti con le ultime versioni di chromium con le ultime versioni di google chrome è stata introdotta una nuova API chiamata idle detection questa API che cosa fa è in grado di può essere utilizzata dai siti per determinare se un utente non ha interagito con il dispositivo hardware specifico come il mouse o come la tastiera o tramite determinati eventi di sistema quindi può tracciare se noi siamo lontani dal computer quanto tempo siamo lontani e quant'altro è stata molto criticata questa nuova funzionalità perché lo vedono è un strumento ulteriore che può essere utilizzato per fini per fini roschi per fini negativi per poter profilare ancora di più utenti per poter spiare ancora di più utenti e la buona notizia è che Vivaldi ha deciso di disattivare per l'impostazione predefinita sia su desktop che su mobile questa funzionalità quindi l'accesso a queste API a differenza poi di come Vivaldi non permette nemmeno che il sito possa chiedere l'accesso a queste API e quindi le richieste dei siti sono respinte per impostazione predefinita ci tornerò nei prossimi giorni con un articolo a riguardo perché voglio approfondire un po' questo problema con queste API ed è perché molti utenti si sono visti indignati a seguito dell'introduzione le altre novità di Vivaldi riguardano miglioramenti per Vivaldi Translate che è il traduttore integrato basato su LingVanex che Vivaldi ha introdotto con la versione 4.0 adesso Vivaldi Translate aggiunge il supporto a 68 nuove lingue portato quindi il numero totale di lingue a 109 è stato aggiunto poi a gran richiesta da parte degli utenti il supporto per progressive web apps e poi ci sono state fatte alcune modifiche al login o out che viene utilizzato dalle funzionalità di post e calendario che sono state introdotte con le ultime versioni di Vivaldi che faranno anche la gioia di molti di voi all'ascolti di quelli più attenti alla praxis adesso il login no out non è più condiviso con il browser principale quindi quando scegliamo di utilizzare il client di post integrato all'interno di Vivaldi per accedere a Gmail praticamente avrà l'accesso soltanto a Gmail e non saremo più connessi a tutti quanti i servizi Google come ad esempio YouTube ciò significa che possiamo utilizzare un servizio come Gmail ma grazie a questa modifica è più difficile per Google rintracciarci su internet per via traversa quindi appunto con YouTube e altri servizi è stato poi aggiunto il supporto drag and drop su Vivaldi in modo tale da poter raggiungere gli aggregati trascinandoli nella finestra di Vivaldi è davvero un browser carino non è completamente open source ci sta visto che ci sono alcune tecnologie che sono state integrate ed è una valida alternativa a Google Chrome se odiate Google fate un pensierino fate una prova con Vivaldi ci sono poi altri browser sapete bene che di browser basati su Chromium è pieno di web abbiamo Opera abbiamo Brave Browser che è idroalatato da molti di voi c'è anche Microsoft Edge che devo dire è anche si sta rilevando anche un browser davvero interessante perché almeno sotto il punto di vista delle prestazioni è migliore rispetto a Google Chrome fatemi sapere voi che cosa ne pensate comunque nei commenti su blog e quant'altro e concludiamo questa centottesima puntata del podcast di Marcosbox con un argomento che non ha nulla a che fare con il mondo del software di open source ma che riguarda in grambiente Microsoft e nella fattispecie Microsoft Windows come ben saprete c'è stato il rilascio di Windows 11 qualche giorno fa e ci sono le solite polemiche che nascono ogni qualvolta viene rilasciato un prodotto Microsoft in special modo ogni qualvolta viene rilasciato un sistema operativo Microsoft il giorno fatidico di Windows 11 è stato temuto giudicato è stato atteso da altri perché questa nuova versione di Windows va a introdurre un restating grafico e va a modificare alcune parti del codice va a migliorare l'integrazione con alcuni servizi di Microsoft perché per esempio adesso preimpostato troviamo l'applicazione chat di Microsoft predefinita che è Microsoft Teams che viene propinata che viene proposta come applicazione di messaggistica di comunicazione integrata all'interno del sistema operativo e ciò la ritroviamo su Windows 11 appena installato dicevo introduce questo nuovo restating grafico con un pannello modificato sono state modificate la gestione degli spazi virtuali è stata modificata la gestione dei widget è stata modificata anche lo snapping con alcune funzionalità che sono state introdotte per effettuare lo snapping delle finestre all'interno del computer sono state svecchiate e tolte alcune residui di pannelli di impostazioni e quant'altro che risalivano le vecchie versioni di Windows o Windows 7 è stato fatto un lavoro apparentemente grande visto che l'impatto visivo va a modificare l'usabilità di Windows però sono state fatte anche delle scelte che sono state criticate apertamente da moltissime persone Luca ha pubblicato su Marcosbox un suo editoriale nel quale parla delle criticità che ha visto nel rilascio di Windows 11 una su tutte ad esempio la presenza di avere come requisito il TPM 2.0 un modulo che migliora la sicurezza e che permette anche la cifratura del disco ma che è disponibile soltanto sui computer più recenti sui processori più recenti e sulle schede madre più recenti poi ho scoperto recentemente anche che non tutte le ultime schede madre montano questo chip questo modulo fortunatamente la build che ho fatto qualche anno fa due o tre anni fa prima della pandemia con un Ryzen una scheda AMD Tomahawk Max integra il TPM 2 quindi ho potuto testare Windows 11 anche sul computer che utilizzo quotidianamente in dual boot con Linux ovviamente questa la decisione di integrare il TPM 2.0 ha fatto storcere in ASO moltissimi dovi e anche Luca perché sapete bene che è un computer di qualche annetto fa che non dispone di questo modulo ma che gira egregiamente con Windows 10 può girare ancora meglio con Windows 11 perché le prestazioni sono state migliorate rispetto a Windows 10 perché adesso l'avvento di SSD ha consentito di far reinvigorire anche i computer datati e Luca critica questa scelta così come l'hanno criticata in moltissime tant'è vero che Microsoft adesso è corso ai ripari e ha pubblicato anche un trucchetto un workaround che consiste da modificare una chiave di registro di sistema che consente di bypassare il controllo sul TMP 2.0 quindi rendetevi conto Microsoft stessa ha proposto un trick per questo l'altra criticità che è stata segnalata da Luca e che è presente che è presente anche sulle ultime ISO da un po' di tempo di Windows 10 e il fatto che se siete se installate Windows nelle edizioni home vi viene richiesto come prerequisito nel momento terminale dell'installazione nel primo setup il goggarsi con un account Microsoft questo perché ovviamente perché Microsoft vuole proporre i suoi servizi come gli account e quant'altro che sono legati poi anche alla gestione alla telemetria un'invasione non invasione brutto di invasione una voler controllare anche il computer sotto questo aspetto con appunto con i soliti spyware alla Windows sapete bene che ci sono tantissimi servizi di Windows che comunicano con l'esterno alcune telemetrie che sono mal vissi da parte degli utenti attenti alla privacy dovrebbe comunque essere possibile io ancora non ho provato dovrebbe essere possibile il solito trucco che utilizzavo anche sull'ultimo ISO di Windows 10 perché sapete bene che io formato spesso e volentieri per via dei casini che faccio con le partizioni quando installo distribuzioni l'ultima che mi ha fatto il danno è stata Debian e io sì Debian ce l'avrò a morte con te perché mi è costretto a formattare il computer che non formattavo la partizione Windows che non formattavo a diverso tempo shame on you dicevo dovrebbe essere possibile comunque il vecchio trick che consentiva di andare a installare Windows scollegando il computer dalla rete e al primo video anche nell'edizione home ci viene bypassato e ci consente di effettuare il login con un account locale e successivamente introdurre e inserire il nostro account online le versioni pro quindi le versioni quelle professional di Windows consentono in fase di installazione di creare un account locale è un po' più macchinosa la cosa perché devi mettere la spunta di io accetto di fare l'account locale limitato e comunque consente di farlo in fase di installazione senza utilizzare il trick dello staccare la rete prima dell'installazione di Windows comunque sono tutte cose che che fanno storcere in casa moltissimi utenti utenti Windows utenti attenti alla prevasi come gli utenti Linux che spesso amano criticare il mondo Microsoft così per partito preso senza aver testato determinate cose sulla propria pelle andatevi comunque a leggere questo editoriale di di e fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa scelta di Microsoft soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate se avete avuto modo di provare Windows 11 io personalmente come vi ho detto prima ho forzato l'installazione di Windows 11 perché ancora mi è arrivata tra gli aggiornamenti di sistema ma ho scaricato il tool solito quello che consente l'aggiornamento da Windows delle versioni di Windows ho installato Windows 11 e devo anche ringraziare gli standard di Windows 11 perché mi ha risolto un problema che avevo con l'esportazione dei PDF nel formato PDF anche non so per quale motivo si era corrotta con la vecchia installazione di Windows 10 con Windows 11 è stato risolto il problema lo sto utilizzando Windows Windows 11 perché voglio capire un po' cosa è stato preso da altri sistemi operativi perché alcune cose sembrano scopiazzate un po' anche dalla gestione di altri sistemi operativi come la gestione della panoramica delle applicazioni dei desktop e quant'altro tutte cose che noi utenti Linux eravamo abituati da anni a gestire in questo modo e poi ci sono anche alcune cose che voglio verificare per quanto riguarda aumenti delle prestazioni che erano stati previsti con questa versione che erano stati propinati da Microsoft specialmente per quanto riguarda il gaming anche se c'è da dire che notizie delle ultime ore sono in arrivo delle patch che vanno a correggere alcuni bug all'interno di Windows 11 che causano un decremento delle prestazioni in presenza di processori Ryzen come nel mio caso che è un Ryzen 5 36 che a detta di appunto di alcuni c'è un decremento delle prestazioni dovuto a un'interpretazione di insomma dovuto a cose di Windows per come interpreta lui alcuni cicli e quant'altro e che sono appunto ci sono delle patch che sono in arrivo che dovrebbero arrivare a breve io onestamente non ho notato questo io l'unica cosa che ho notato è che sto odiando questa grafica questa grafica nuova di Windows che devo dire non picchiate mi ricordo un po' i vari desktop environment di origine asiatica e ci siamo capiti a chi mi riferisco ed è una cosa che odio con tutti i big money che c'è a Microsoft poteva studiare una cosa un po' più coerente con dei menu più coerenti non lo so comunque il mio cuore rimane con Linux non vi preoccupate non vi sto dicendo che sono passato a Windows sto soltanto dicendo che siccome utilizzo Linux per questioni lavorative ho aggiornato Windows 11 e voglio conoscere Windows 11 voglio capire che cosa c'ha Windows 11 di sbagliato che cosa c'ha di Windows 11 di buono e niente semplice curiosità da nerd informatico fra qualche giorno dovrebbe arrivare invece parlando di cose più carine dovrebbe arrivare KDE Plasma 5.23 la nuova versione che promette cose fighe va bene chiudiamola qui che mi sono diluncato troppissimo mi sono reso conto su questo spazio su Windows 11 e sono 11 minuti ho registrato esattamente 11 minuti e 11 secondi dello spazio dedicato a Windows 11 coincidenze? noi crediamo di sì comunque con questa ultima notizia si conclude qui questa centottesima puntata del podcast di Marcosbox vi ricordo come sempre che potete seguire il podcast di Marcosbox sulle principali piattaforme di streaming dedicate ai podcast quindi Spotify Apple Podcast Google Podcast mi potete trovare su come si chiama su Anchor mi potete trovare anche su TuneIn mi potete trovare su diversi altri siti che pubblicizzano feed di podcast potete trovare sia la skill per il sommario quotidiano di Marcosbox su Amazon Alexa ma anche la possibilità di seguire i podcast di Marcosbox su Alexa quindi su Amazon Music mi trovate su Apple Podcast come dicevo mi trovate ovunque potete seguire il blog tra i soliti con il solito feed reader quindi con tramite il feed che trovate su Marcosbox vi ricordo che ci sono le pagine social c'è la pagina Facebook c'è la pagina Twitter con il mio profilo personale ma c'è anche quella dedicata a Marcosbox.org che fino alla fine dovrà fare una brutta fine se riesco sempre se riesco a riappropriarmi del Marcosbox su Twitter quello senza org e mi trovate poi su Telegram con tre canali c'è il canale ufficiale con le notizie di Marcosbox c'è il canale della community di Marcosbox e poi potete trovare consigli potete scambiare idee potete parlare di tutto non soltanto nel mondo del software libero open source e poi trovate il canale su Telegram dedicato alle offerte di Marcosbox se avete avuto modo di vedere su Marcosbox se presenta un banner di Amazon potete supportare il blog effettuando acquisti con il referral link di Marcosbox Marcosbox trattino 21 oppure navigando su Amazon cliccando prima il link il banner che trovate su Marcosbox oppure potete decidere di acquistare uno dei prodotti che pubblico sul canale Telegram di Marcosbox che sono link affigazioni Amazon e quindi sapete come funziona Amazon mi riconosce una piccola percentuale sui vostri acquisti voi non pagate niente ma supportate il blog come avete avuto modo di vedere anche da una settimana circa è limitato anche quel banner pubblicitario che c'era sopra non so se rimetterò la pubblicità lo sto un po' studiando le cose perché avevo intenzione di mettere mano nuovamente al codice di Marcosbox per cambiare un po' il layout e quant'altro e non piaceva nemmeno a me quel bannerone di AdSense anche perché non è che ci faccio i big money con AdSense quindi quindi ho deciso di togliere momentaneamente forse tornerà forse tornerà in un'altra posizione non lo so però sappiate che cerco di evitare anche di sovraccaricare il sito di pubblicità non faccio come altri siti che senza un adblock vi ritrovate sommersi di pubblicità quindi se volete supportare potete supportarmi con con Amazon oppure c'è anche il pulsante per voi se volete fare una dozione bene lunga vita e prosperità a tutti quanti spero di non avervi annoiato con questa puntata che doveva essere corta visto i pochi argomenti ma in realtà mi sembra che è diventata più lunga del dovuto ciao 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 Grazie a tutti.